Musica Oggi ci hanno tolto il 15 d'ottobre, ci hanno tolto la vita, ci hanno tolto la pelle. Toglierci la divisa è significato proprio questo, ci hanno tolto tutto. Per noi la divisa è qualcosa che ci rappresenta nel mondo e che abbiamo sempre indossato con grande orgoglio. Siamo venuti a esprimere innanzitutto il nostro dolore, la solidarietà a tutti i nostri colleghi che hanno chiamato in ITA, che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante. Una cosa vergognosa, io non ho altri termini, sembrano termini forti, ma quello che sta accadendo. Consentire con soldi pubblici che nasca un aborto di compagnia che nulla è come l'Italia, che a quanto dicono tutti gli esperti è destinata a chiudere tra un po', è quello che qui si sta testimoniando.